Una delle cose più belle che nella nostra vita ci sono e sono sempre presenti sono le storie. Le storie sono qualcosa che ascoltiamo da quando siamo piccoli, che ci raccontano, che raccontiamo, che leggiamo attraverso riviste e libri e hanno un potere evocativo grandissimo. Siccome non possiamo, diciamo, non comunicare e siamo sempre in una momento e fase comunicativa nella nostra vita, ritengo che riuscire come persona a imparare a raccontare se stessi attraverso il potere delle storie sia veramente un valore aggiunto. All'interno dei miei corsi di formazione, ma anche nei miei percorsi di psicoterapia, uso l'elemento storia e aiuto le persone a raccontare le loro storie, il loro vissuto emotivo, in modo tale da poter far uscire questo vissuto emotivo e quindi poi trovare dei miglioramenti e degli aspetti positivi e di valore all'interno delle loro storie, perché se noi riusciamo a esprimere il nostro valore, a comunicare con efficacia, riusciamo anche a potenziare la nostra percezione di noi stessi e, come spesso racconto all'interno di articoli o nei video, quello che noi riusciamo ad esprimere di noi stessi attraverso la percezione di noi stessi va a aumentare l'autostima. L'autostima è come noi ci vediamo e come noi ci vediamo nella relazione con noi stessi e con gli altri. Quindi vi consiglio di leggere l'ultimo articolo dedicato allo storytelling. Ci sono degli esercizi mirati che consentono proprio di raccontare, raccontarsi e lavorare su se stessi. Poi aspetto dei feedback ed eventualmente anche proprio una mail nella quale mi raccontate la vostra esperienza rispetto agli esercizi che vi ho lasciato e che vi propongo all'interno dell'articolo. Se volete informazioni rispetto a come lavorare su di sé e come lavorare sulla propria storia personale, contattatemi a studiochiocciolaguidadacutipsicologo.it oppure mandatemi una mail a studiochiocciolaguidadacutipsicologo.it. Grazie.